Un percorso di file descrive la posizione di un file nella struttura di cartelle di un sito web. In questo caso, il file è situato nella stessa cartella dove si trova la pagina corrente. In questo, il file è situato nella cartella images che si trova nella cartella corrente. In questo, nella cartella images che si trova nella radice dell'applicazione web. Infatti, lo slash indica appunto di partire dalla radice. In quest'ultimo caso, abbiamo un punto punto che indica il padre della cartella corrente. Quindi, questo file si trova nella cartella a un livello sopra rispetto alla cartella corrente. I percorsi dei file sono usati per collegare file esterni come pagine web, immagini, fogli di stile e file contenenti JavaScript. Un percorso di file assoluto è l'intero URL del file. Qui abbiamo un esempio. Partiamo dal protocollo schema. Abbiamo l'indirizzo dell'applicazione web, slash la cartella images, slash l'immagine. Possiamo guardare. Questa è l'immagine. Infatti, vedete l'indirizzo completo. Un percorso di file relativo punta a un file relativamente alla pagina corrente. In questo esempio, il percorso del file punta a un file nella cartella images situata nella root o radice dell'applicazione web. In questo esempio, abbiamo sempre un percorso di file relativo e in questo caso punta a un file nella cartella images situata nella cartella corrente. In quest'ultimo esempio, il percorso del file punta a un file nella cartella delle immagini situata nella cartella a un livello superiore rispetto alla cartella corrente. Il punto punto indica il padre della cartella corrente. È consigliato sempre di utilizzare percorsi di file relativi, ovviamente se è possibile. Se si usano percorsi di file relativi, le pagine web non saranno legate al corrente indirizzo URL base. Tutti i collegamenti funzioneranno sul tuo computer, in questo caso si parla di localhost, così come funzioneranno in un dominio pubblico quando in futuro l'applicazione web verrà pubblicata. Grazie a tutti per aver guardato il tutorial. Ciao!